Intanto concentrarci sulle policies, cioè la gestione del consenso, l'essere partito unico, eccetera, perché i fiori possono nascere se i terreni sono fecondi. Allora io quello che propongo è di coltivare i terreni. Con che cosa? Con competenze e soprattutto con temi. Cioè, sui grandi temi dell'agenda politica, il mondo cattolico occorre che faccia delle grandi riflessioni per avere delle proprie soluzioni. Ecco, ma tra sovranisti e populisti c'è spazio per proposte diverse, per una proposta cattolica. E se sì, come occupare questo spazio? Con la forma partito si dice un nuovo partito dei cattolici, ma insomma i partiti sono un po' in crisi, che facciamo un nuovo partito dei cattolici? Ma dunque, nel novecento, soprattutto negli anni trenta, la Chiesa e il mondo cattolico ha risposto ai populismi con i popolarismi, che sono l'inizio di nuovi processi culturali, fatti di comunità, di persone, che invece di combattersi si stimano e portano avanti temi. Pense ad esempio al Codice di Camaldoli, dove la Chiesa si pensava fosse, vivesse nella sacristia, e invece stava già preparando il futuro che è entrato poi nella Costituzione. Quindi questi esempi ci sono. E sta ricrescendo questa nuova stagione, io la vedo e la percepisco. Per cui dobbiamo essere anche un po' sbilanciati più sulla speranza che non sulla disillusione, dando anche fiducia però ai giovani, che potrebbero essere anche una possibilità di portare competenze a un mondo che è cambiato e anche nuovi volti.